Milano, la città delle opportunità, il nostro sogno americano. Il PD lo sta trasformando nel nostro incubo. Oggi Forum Milano Mondo, grandi proposte, più accoglienza, un comitato per controllare la qualità dell'accoglienza e un grande piano di integrazione. Non ci bastano già i 6.000 clandestini che ospitiamo vitto, alloggio, divertimento e corsi di formazione. Oggi Milano sta vivendo una grande fase difficile. 27.000 famiglie aspettano una casa popolare, 54.000 persone in stato di povertà assoluta, 20.000 bambini che non si nutrono a dovere. Siamo a Milano, non in Africa. E il grande comune, il PD, si preoccupa di coloro che neanche dovrebbero essere qui, che si aspettano di trovare un nuovo Eldorado e trovano solo povertà, le nostre periferie abbandonate. Due soluzioni, fermare gli arrivi e al posto del piano di integrazione, un piano di espulsione. E a tutti i cittadini che oggi sono in difficoltà e non credono più a nulla, vi diciamo di non perdere la speranza, perché dal 2018, dopo le elezioni, noi rivoluzioneremo l'Italia e al PD diciamo solo di vergognarsi di queste carnevalate Milano-Mondo che pensano a tutti, tranne a chi dovrebbero.